in queste acque sei qui perché qualcuno ti ha plagiato hai invece creduto che Gesù è il figlio di Dio lo hai accettato come tuo personale salvatore prometti di obbedirti, amarlo, onorarlo tutti i giorni della tua vita in base a questa tua confessione di fede io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Alleluia